Il sindaco che deve tutelare il bene pubblico, la salute pubblica, il primo cittadino, cosa fa? Anziché di venire con me, l'ho invitato, viene a vedere il depuratore. Eh sì, ma hai fatto le analisi, ma l'ARPA... Cacchiere! Cacchiere politiche! La realtà è questa! La realtà è questa! Il mare, il golfo di Manfredone, inguinato! La foce del Candelaro, la più inguinata d'Italia! Vergognatevi politici!